Quali sono gli approcci terapeutici che vengono utilizzati nella malattia di Parkinson? Ce ne sono anche di nuovi e di questo argomento ne abbiamo parlato con il professor Fabrizio Stocchi. Professore, innanzitutto per la malattia iniziale a cosa ricorriamo? Parlando di terapia farmacologica. Innanzitutto va detto che per quanto riguarda la terapia iniziale ci sono diversi farmaci che sono attivi, la classe dei dopaminagonisti, la classe dei monoamminossidasi B inibitore e la classe della levodopa. Tutti questi farmaci possono essere utilizzati nella forma iniziale di Parkinson ma essendo i pazienti molto diversi l'uno all'altro, anche se parliamo di tutti i pazienti iniziali mai trattati, ovviamente il neurologo dovrà scegliere quale di questa classe farmacologica applicare per prima. Certamente oggi l'idea è quella di andare verso una politerapia, quindi una combinazione di diversi farmaci per mantenere i dosaggi più bassi, quindi limitare il rischio degli effetti collaterali e ottenere il massimo del beneficio. Questo anche nei pazienti in fase avanzata, cosa utilizziamo in questa categoria? I pazienti in fase avanzata sono pazienti che hanno fluttuazioni motorie e a volte anche di scinesie, in questo caso ovviamente alla levodopa che a questo punto diventa il farmaco principale si associano altre sostanze che possono essere i dopaminagonisti, i maubi inibitori, i comt inibitori, molto spesso in un cocktail complesso dove tutti questi farmaci giocano un ruolo però importante. Infatti negli ultimi trial clinici abbiamo visto che nonostante il paziente fosse già trattato con levodopa, dopaminagonista, comt inibitore, l'aggiunta di un altro farmaco, ad esempio un maubi inibitore, ha portato un ulteriore miglioramento in questi pazienti. Poi ovviamente abbiamo le fasi molto avanzate, lì ci sono terapie cosiddette terapie avanzate che sono appunto l'infusione sottocutanea di apomorfina, l'infusione intraduodenale di levodopa e la chirurgia, la DBS, che ricordo va utilizzata nei pazienti in fase avanzata di malattia. Per quanto riguarda l'ultimo arrivato, almeno per l'Italia, la safinamide, in quale tipologia di paziente viene utilizzata? La safinamide è un monoamminossidasi inibitore, reversibile, quindi è il primo reversibile rispetto alla seleggelina e alla rasagelina, quindi più maneggevole e con un profilo di effetti collaterali migliore. Il paziente viene utilizzato nei pazienti che già prendono levodopa, che hanno fluttuazioni motorie, quindi il fenomeno del wearing off o fluttuazioni motorie più importanti, può essere associato a qualsiasi altro farmaco antiparkinsoniano ad eccetto degli altri due MAOB inibitori. Ovviamente il paziente che viene trattato con questo tipo di farmaco è un paziente che può essere anche ancora un paziente nelle fasi iniziali di malattia, ma che già magari comincia ad avere delle fluttuazioni durante la giornata, a tipo una perdita d'efficacia in alcuni momenti della giornata o la comparsa di alcuni sintomi anche non motori, come la depressione, la stanchezza, la fatica, l'ansia, l'attacco di panico. E può essere anche utilizzato nei pazienti più avanzati in associazione agli altri farmaci o puramente in associazione alla levodopa, magari in formulazione o in una terapia più complessa dal punto di vista della posologia della levodopa. Ecco, questo è il termine giusto. Comunque un farmaco sicuramente utile, molto efficace, ben sperimentato e che ci sta dando già dei buoni risultati. Ecco, la ricerca non si ferma. Cosa possiamo aspettarci per il futuro? Ma il futuro sicuramente è estremamente interessante. Abbiamo in studio delle nuove formulazioni di levodopa, quindi che durano molto più a lungo rispetto alle attuali formulazioni. Abbiamo delle cosiddette rescue therapy, cioè delle terapie che possono essere utilizzate al momento in cui il paziente dovesse avere un off durante la giornata o magari anche durante la notte. Si tratta di una levodopa inalatoria oppure di un film piccolino sublinguale di apomorfina. Abbiamo un nuovo inibitore delle catecolometiltrasferasi, l'opicapone, che sta per arrivare in commercio in Italia. Abbiamo gli inibitori dell'adenosina, istradefillina e tozadenant, che sono in fase 3 di sperimentazione, quindi in una fase piuttosto avanzata. E poi una nuova formulazione per infusione sottocutanea di levodopa, che è estremamente interessante, perché renderebbe molto più semplice questo tipo di terapia, tra l'altro particolarmente efficace. E poi speriamo, ovviamente, riponiamo molta fiducia negli anticorpi per l'alfasinucleina, che è il primo studio, partirà proprio in Italia in primavera.